We're just hot then, I got options, I can pass that bitch like Stockton We're just hot then, we'll talk about New York Knicks But we're just a team that's very interesting, because it's a great team For sure, manca quel qualcosina in più per vincere il titolo And quel qualcosina in più spero di essere il sottoscritto Questo è il nostro roster con tutti gli infortuni Hanno aggiornato i roster finalmente i signori di NBA 2K Iniziamo con i risultati reali 33-19 record New York Knicks L'obiettivo è portarli al titolo nel più breve tempo possibile La nostra situazione di salari è questa che vedete qui Diciamo che c'è qualche buon contratto come quello di Branson Che è ottimo per un 90 di overall Come anche quello di Mitch Robinson e di Di Vincenzo Altri un po' meno, tipo i 20 milioni a Bogdanovic E anche questo di Randall, visto il suo overall, capiamo Noi adesso le trade non le possiamo fare Perché ovviamente la trade è della mia passata Quindi simuliamo quello che ci rimane E vediamo cosa fanno i Knicks ai playoff con questa squadra E poi ci mettiamo al lavoro Potete già mettervi al lavoro voi Lasciamo 2000 mi piace Mitch Robinson è guarito molto bene Eppure Randall Oh, daglie Ho come sempre diminuito leggermente la durata degli infortuni Per tutti Per me e per la CPU Perché se no è anche la frequenza Se no sono troppi normalmente Questa sarebbe la rotazione Sto facendo giocare tanto i titolari Come farebbe Tibodo E dicevo Voi potete già mettervi al lavoro Lasciando 2000 mi piace Perché adesso vorrei cominciare una bella serie di rebuilding Però voglio vedere il vostro supporto Iscrivetevi Fatemi sapere il commento Anche per chi voleste vedere Post trade headline Su chi andare a lavorare Anche tra quelle squadre che non si sono mosse E intanto che vado avanti a simulare Signori C'è un giveaway per voi Per questa canotta E attenzione Sabato Notata dell'All Star Weekend Gara delle schiacciate Facciamo la reaction I live su Twitch Questa sarà in palio Per Per voi Potranno partecipare tutti Quindi mi raccomando Passate Ma soprattutto ricordatevi Che c'è lo store Che è lo sponsor del canale In descrizione E con il codice SweetYouTube Avete un'offerta speciale Perché Attendendo di più La spedizione Vi regalano una maglietta in più Quindi dateci un'occhiata Assolutamente Sono maglie Pressoché originali Secondo me I difettati di fabbrica Di quelle originali Ne ho prese un po' La qualità Ci sta tutta Assolutamente Per il prezzo che valgono Mi raccomando SweetYouTube Il codice sconto Per il 10% Ma in questo caso Per l'offerta Che vi regalano Due magliette Se spendete tipo 50-60 euro Ecco Una cosa molto importante Che provo ad andare a fare È rifirmare Prima che scada L'opzione giocatore Anunobi In maniera Tale anche Magari da risparmiare Visto che non c'è nessuno Che può rubarcelo In questo momento Di regular season Un triennale Da 16 milioni A salire Ok Perfetto Perfetto Averlo a contratto Anche le prossime stagioni E soprattutto Con un taglio Di stipendio Vedete Di 2 milioni Mi piace Moltissimo Bene Eccoci qua signori La solita mia fortuna Giulio Sarendro All'ultima partita Di regular season Si è fratturato La caviglia destra 8-10 settimane Che saranno meno Ma comunque Ci salta i playoff Perfetto Per la cronaca Jokic L'NVP Con una Pressoché Triple doppia di media Senza senso E il bello È che sono statistiche Praticamente reali Wemby è Rookie of the Year Westbrook Sesto uomo dell'anno Wemby Defensive of the Year Ecco Nella realtà Potrei essere d'accordo Ma ho uno o l'altro Per Wemby Probabilmente Il most improved È Jalen Johnson Ci sta assolutamente Shai Giocatore decisivo dell'anno Mardino Coach of the Year Beh Tutto torna Jokic Don C'è Tocumpo Shai Traiang Il primo equitetto NBA Embiid non c'è Ovviamente Per la regola Delle 65 partite Sappiatelo Wemby Secondo quintetto L'Embiè Nella stagione Da Rookie E c'è anche il nostro Jalen Branson Il terzo Bene Siamo arrivati Quinti Giocheremo contro Fila Il primo turno Con un Embiid Immagino Più che sano Adesso Eccolo qua Sì Embiid è tornato Eh Con Baddild Ovviamente Che l'hanno tradato Io ho scelto Di andare con Bogdanovic Da 4 Vediamo se Mitchell Robinson Dice la sua Contro Embiid E poi Lavoriamo in Free Agency Direi che ha detto La sua Sì Abbiamo vinto 4 a 0 La serie Ah Ma forse Non devo fare Proprio niente Nonostante Un Embiid Sul pezzo Bogdanovic 35 in 32 Minuti In gara 4 Branson 27 8 7 Di Vincenzo 24 7 7 Mi hanno tirato Con un ottimo 18 su 35 Da 3 Che è più del 50% Spettacolo 4 a 0 4 a 0 E adesso troviamo Boston Al secondo turno Io vado a invertire In un hobby Che si va a marcare Tatum E Bogdanovic Lo lascio Su Brown Vediamo se è una cosa Sensata Non mi sembra Ma in realtà Semplicemente Sono più forti di noi Mi viene da dire E vabbè Il Garden però Teniamo botta Due pari Bravi Abbiamo gara 5 A Boston Come va Ma qui abbiamo Già una squadra Da finale di conference Vuoi dirmi Ah Perdiamo la sesta In casa E la settima L'anno la vinciamo mai E invece sì Andiamo a vincere Gara 7 In trasferta Abbiamo già Tra le mani Una squadra Da finale di conference Quindi Il mio rebuilding È molto complicato Perché Vuol dire vincere Il titolo O nient'altro Tutto ciò Senza Branson Senza Randall Derby di Los Angeles A ovest Clippers Lakers Finale di conference I slakers Che hanno battuto Prima il primo seed E poi il quinto Minnesota E OKC Vabbè Oddio Che possano battere Minnesota E OKC Non mi sembra Neanche così Inverosimile Devo dir la verità Noi altri Siamo sotto 2-0 Dopo le prime Due partite A Cleveland Ma lo eravamo Anche contro Boston A dir la verità Ne abbiamo perso Una in casa Un rematch Dell'anno scorso Questo 3-2 Teniamo viva La serie Tutto ciò Senza Randall 3 pari No dai Ma non ci credo Ma Ovviamente Nelle simulazioni Non succede mai Questa cosa Non succede mai Beh Allora Una cosa La possiamo leggere Da questo Randall è inutile Per questa squadra Cioè scusatemi Senza offesa Ma se questo È quello Che facciamo Senza Randall Direi Che Randall È inutile Per un pelo Che avevamo Anche il fattore Campo 59 vittori 53 Clippers Quindi le prime Due Si giocano Allo Staples Clippers Salle finals Perdiamo Le prime Due La da loro E anche Abbastanza Male Mi viene a dire Paul George 35 34 9 9 Io non ci ho messo Non un hobby Su Paul George Si Allora ho provato A accorciare Ancora ulteriormente Le Ai 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 Almeno una La vinciamo Al Garden 119 117 Paul George Tosta Ma poi anche Zubac Ci sta Massacrando Mitchell Robinson Che cosa sta facendo Ah rimontiamo Da sotto 3 a 0 Oddio Oddio aspetta Che torna Randall Per gara 7 Come Willis Reed Non c'è una gara 7 Va bene Ok Niente Abbiamo perso Le finals Paul George MVP Delle finals Non lo so Se succederà Nella realtà Sarebbe carino Boh Forse sì Forse no 4 a 2 Clippers E adesso Io ho un compito Molto difficile Perché abbiamo fatto Già le finals Io pensavo di fare Un secondo turno Di playoff Facendo le finals Miglioriamo questo Rebuilding Solo vincendo il titolo Vediamo la lotteria Del draft adesso Allora ci vedete La 3 Ma sicuramente È protetta Quella scelta Lì di Detroit Invece la 14 Da Dallas Dovrebbe Potrebbe Essere nostra Sì infatti Vedete abbiamo La nostra La 24 E qui a destra Abbiamo Sinistra Poi tra l'altro Perché sono sempre Specchiato Scusatemi In X Da Dallas Quindi la 14 Alla fine La 1 L'hanno presa Le Wizards Poi Raptors Thunder Sì Thunder Con la 3 Blazers Da Golden State Come è finita Quella 3 Me la sono persa Non è protetta Evidentemente Non lo so Hornets Alla 5 Pistons Alla 6 Via via Tutti gli altri Quindi abbiamo anche Buon materiale Di draft Per Per muoverci O il draft O adesso vediamo Insomma Ovviamente Confermiamo Tibodo E lo staff Ci mancherebbe Altro Eccoci allora Il draft NBA 2024 Adesso io mi metto Un po' A cercare Qual è la situazione Per farvi capire La mia idea Sarebbe Salutare Randall E salutare Josh Hart Perché nella realtà Josh Hart Pezzo fondamentale Di questa squadra Su 2K Un 78 Pagarlo 20 milioni Circa È un po' Una mezza bestemmia Allora C'è questa opzione Qui Ovvero McBride Randall La 14 E la 24 Quindi tutto il nostro Capitale In questo draft Per Markan E Sexton Overall Mi sembra Ovvio Che sia Un'ottima Trade Stavo cercando Essendo in New York Knicks Il grande nome Il Donovan Mitchell Il Trey Young Che potrei prendere Ma dando via Branson E non è la mia Intenzione Insomma Il grande nome Per la grande mela D'altronde Né Sexton Né Markan Sono grandi nomi Ma Sexton Sarebbe un giocatore Perfetto Per Tibodo Ne sono convinto Ho trovato Questa qui Sgarfando un po' Purtroppo I grandi nomi Non vogliono venire A New York Knicks Quanto meno Come nella realtà E allora Niente grandi nomi Solo persone Adatte Pronte a giocare Con la nostra Mentalità Di Tibodo Markan Devo ancora capire Se lo è Sexton Lo è sicuramente Ci va a fare La nostra Guardia Titolare Di Vincenzo Scala dalla panchina O viceversa Perché Sexton Come sesto uomo Di lusso In realtà Ci sta Alla grande Ci serve Poi un nuovo Play Di riserva Ma abbiamo Fatto un upgrade Nel ruolo Di Alla grande Anche a livello Contrattuale E teniamo La 14 Con questa trade Quindi Ecco il mio Primo movimento Per una squadra Che è arrivata Alle finals Sono pazzo Spero di no Visto che Randall non ha Partecipato Alla nostra run Alle finals I Withers Alla 1 Hanno preso Isaiah Collier Ah Ok Eccolo qua Il nostro Play di riserva Ovvero L'MVP Degli ultimi mondiali Dennis Schroeder George Hart La 14 E due seconde Che va beh Per Dennis Schroeder E Dieron Sharp Perché potremmo avere Anche un piccolo buco Nel ruolo di centro Di riserva In caso Artestine Non dovesse Rifirmare Dietro a Mitch Robinson Ci paraculiamo Con Dieron Sharp Che è un buon giovane Diamo un po' di scelte A Brooklyn Che è quello che sta facendo Anche nella realtà Raccattare scelte Sono entrambi scadenza Quindi se non vanno bene Li possiamo salutare Poi la prossima estate Adesso vi spiego Perché Qual è il mio ragionamento Dietro Qui Non so se sono giocatori Da Tibodo Però sono giocatori Che sicuramente Mi fanno comodo Alla 2 Viene preso Alexander Sar Ai Raptors Alla 3 I Thunder Da una squadra Già enormemente completa Fanno uno scambio La 3 Carich Williams Per De Rosane E Vucevic Ma guarda Non sono particolarmente Impaurito Di solito Vengono affossate Le squadre A questo tipo di trade Lo speriamo Bravi Bulls Che ribildano E vanno su Justin Edwards Sefon Kassel Alla 4 Giacobbi Walter Alla 5 Matas Budzelis Ai Pistons Alla 6 E Nicola Topic Alla 7 Ron Holland Dove me lo buttate E la madonna Addirittura Alla 10 È sceso Trade 10 E Jock Lendale Per Donovan Klingon E Brandon Clark Ha quindi trade up Per Per i Rockets E Memphis Torna indietro E prende Ron Holland Alla 10 Non mi pare un brutto affare Eeeh Mi sono lasciato tentare Dall'andare a cercare Ancora una trade Nonostante Bogdano Ci abbia fatto Dei playoff Senza senso L'anno scorso Giocando da titolare In una maniera Veramente Assurda Visto come si era Messa la situazione Però Questa pick È l'ultimo nostro Baluardo al draft Perché è la pick Di Detroit Che potrebbe essere Molto Molto valida Ma anche no Perché tante volte Detroit Già la seconda stagione Su 2K Fa le run Ai playoff Si va a prendere Ruzziere Ahimè Akez Junior Più questo contrattaccio Che tanto poi Ho già controllato Ha un'opzione squadra Quindi lo siluriamo O la Deadline O con l'opzione squadra L'anno dopo E Akez C'è Dalla panchina Troppa roba Dietro Anunobi O volendo anche Titolare Ma non credo serva E come vedete Abbiamo Branson Schroeder Sexton Di Vincenzo E vabbè Se serve pure Duncan Robinson In realtà Anche se nei miei piani Non esiste Anunobi Akez Che poi salirà Anche di overall Markkanen Come unica Alla grande E Mice Robinson Di Aaron Sharp O Jericho Sim Se adesso vediamo Che potrei anche Riadattare Con Duncan Robinson Alla piccola di riserva E Akez Alla grande di riserva Che scende solo di uno Si potrebbe fare anche così Quindi come immaginerete Il nostro spazio salariale È nullo Anche se c'è Lebron in free agency A cui i lake soffrono ancora un anno Una barca di soldi L'unica cosa che vorrei fare È rifirmare Artestine Che è nostro giocatore I Pacers Però madonna Gli hanno offerto Un mucchio di soldi Io posso offrire dei soldi Non so però Se a lui Interessano Questi soldi Allora Proviamo L'opzione giocatore 6.45 Vediamo dove ci mette Perché secondo me Se riusciamo a prendere lui La squadra ce l'abbiamo Ed è migliorata Rispetto a quella dell'anno scorso Vuol dire che vinceremo il titolo Molto probabilmente no Perché è 2K Però Io vado avanti Con la coscienza pulita Eccolo qua Precious a questo punto Mi sa che ti sacrificherei Io Devo essere sincero Vai Prendiamo Isaiah Artestine Concordo Concordo Buttalo dentro Perfetto Visto che abbiamo i diretti bird Su di lui Essendo che esce dal contratto da rookie Io gli ho Vi faccio un'offerta Come vedete dalla barretta là Magari non troppo Troppo interessante Però non ne ha altre Quindi Io questi sono gli ultimi soldi Che ho Se li vuoi Te li vieni a prendere E se no Vai da qualche altra parte Che tanto a me Più di tanto Non serve Ma così Duncan Robinson Lo possiamo Tradeare Allora Ha accettato Due anni A 15 milioni 80 Che vuol dire Quasi 8 milioni A stagione Quindi molto di più Di quello che gli ho offerto io Sai cosa? Lascia perdere Precious a Chihuah Va Al progresso giocattori Akez sale di 1 Considerando che dalla piccola Sarebbe ulteriormente di 1 In realtà forse è salito di 2 Però vabbè Insomma Diano Sherpa è salito di 2 Ottimo Io l'avevo spostato dalla grande Diciamo che Sì Abbiamo una squadra Estremamente compatta Ho portato a casa Joe Ingo Sbeverly e Kenard Come Veterani Anche se Kenard Ha 28 anni A fondo Panchina Abbiamo una squadra Secondo me Che è perfetta Per quello che vogliamo fare In quanto Allenati da Tom Tibodo Adesso vediamo Se 2K ci dà ragione Che spesso non è semplicissimo Oh ragazzi Mi raccomando I duemila mi piace Per il rebuild Della prossima domenica Consigliatemi la squadra Nuova stagione Questa celebre rotazione Voglio provare A far giocare Sexton Dalla panchina In questo inizio Comunque 26 minuti Che sono tanti Ovviamente i titolari Giocano tanto Perché è una squadra Di Tibodo Rimandiamo sempre Lo stesso discorso Alla deadline Capiremo di cosa fare Di qualche Pezzo inutile Del nostro Roster Per dire Abbiamo Duncan Robinson Colazione squadra La mia idea È che se tutto va In malora La prossima stagione Si prova ad andare Forti sulla free agency Che è molto più interessante Di quest'estate Perché Scade Schroeder Scade Markanen Mandiamo via Duncan Robinson Sexton Si può tradare Al draft Mal che vada Assieme a Mitchell Robinson Con Branson E Anunobi Possiamo provare A prendere La terza stella Che può essere Il Tatum Il Donchic Che sono In free agency Questa era La mia idea Prima proviamo A ragionare Secondo quello Che farebbe Tibodo Senza grandi stelle E poi se va Tutto in malora Fanculo tutti Tutti dentro Per le stelle Allora Siamo a metà stagione Siamo secondi A est 25-16 Ma Non è tanto questo A farmi felice Tre partite Dietro gli Hawks Quanto che Branson Si è rotto Cinque volte Giuro Cinque volte Si è rotto Artenstein E adesso Abbiamo fuori Sexton Artenstein è tornato Branson Sta tornando E abbiamo fuori Sexton E nonostante ciò 25-16 Mi sta facendo Preoccupare Non poco Questa cosa Di Branson Perché In 40 partite Si è rotto Cinque volte Dio santo Tu che non ci lascia Essere grandi Andiamo alla trade deadline Tengo a farvi vedere Che i Clippers Per ringraziare Paul George E averli portati al titolo Primo titolo Della storia della franchigia E primo MVP Delle finals L'hanno tradato Per Kuzma E Jordan Poole Kauai sarà molto contento Eccola Eccola la mossa Eccola la mossa L'all in totale Tanto è in scadenza A Giroli Sì 39 milioni Maledetti 82 Verrò Il 34 anni Ma è l'uomo Che ci manca E il fattore X Poi ci danno pure una scelta Farà schifo Ma oh Io la prendo col sorriso Dentro Drew Altro uomo Di Tibodo Vamonos A fine stagione Nikola Jokic Sfiora veramente Per un millimetro E vince un'altra volta L'NVP Quindi sono 4 MVP In 5 anni Giusto per farvi capire 28 11 e mezzo 10 assist Un recupero e mezzo Isaiah Cogliev Vince la matricola dell'anno Ecco perché l'hanno preso alla 1 Kevin Porter Jr Sfiora dell'anno Wemby Defensive of the Year Trenton Watford Most Improved Perché hanno tradato Vucevic e De Rosan Ve lo ricordo Anthony Edwards 33 punti di media Tra l'altro Giocatore decisivo dell'anno E Queen Snyder Coach of the Year Primo quinteto Jokic Doncic Tentocumpo Booker Edwards È il primo No ovviamente non ci cagherà nessuno Ma ci mancherebbe altro Noi siamo arrivati secondi Ah in realtà Primi a pari merito Con gli Hawks E purtroppo per scontri diretti Evidentemente Siamo arrivati secondi Ma insomma Il nostro upgrade L'abbiamo fatto Nonostante Una stagione Da 11 Si Avete sentito bene 11 infortuni Contando questo Che sta andando ancora avanti Di Jalen Branson È appena tornato a Nonobi Si è rotto un paio di volte Sexton Si è rotto Come si chiama Martenstein Si è rotto Di Vincenzo Una volta A Akez L'unico che non si è fatto male È Markanen Che si farà male sicuramente Ai playoff Il primo turno Lo giochiamo contro Indiana Che è passata Dal Dal play-in Dall'altra parte Primo posto A ovest Per New Orleans Le statistiche al volante Sono queste Vedete Branson ha stato 4 partite Che è incredibile Ma ve lo giuro Che si è fatto male 11 cazzo di volte Cioè Ha sempre giocato rotto Sempre infortuni Del cazzo Tipo questo qui Che lo fanno giocare Con 4-5 o meno Di overhaul Io boh Non lo so Anunobi 70 partite Markanen 82 Ha fatto 21 punti 8 rimbalzi di media Grande presa Grande presa Bello questo Della MiG2 Poi un po' di gente In doppia cifra Miche e Romi Sono 11 rimbalzi E due stoppate e mezzo Abbiamo Anunobi Da quasi due recuperi di media Mi piace molto Questa squadra È molto tibodiana Adesso proviamo A farle vincere un titolo Che sarà tutt'altro Che semplice Il primo turno Volavia Risho E Miami La classicissima Miami Di mio padre Jimmy B Che torna Che torna a fare sfraceli Ai playoff Jimmy B In realtà più tale riro Mi viene da dire Ma anche Jimmy Ha fatto le sue L'ottavo seed Butta fuori il primo Secondo turno contro Cleveland Quest'anno abbiamo una rotazione Un po' più Cioè i lunghi Un po' più lunghi E effettivamente Rispetto all'anno scorso Che giocavamo con Bogdanovic E Anunobi Forse riusciamo a fare Un po' meno difficoltà L'anno scorso Abbiamo vinto contro Cleveland In fine di conference Loro sono arrivati Sesti Capiamo Due pari dopo le prime Quattro Sono a tanto così Da Mettere in panchina Anunobi Devo dire la verità La gara 5 Quella abbiamo vinta In realtà Anunobi Ha giocato bene Bravo Markman sta facendo Dei playoff Insensati Si era fatto male Branson Di nuovo Incredibile Ma siamo alle fine Di conference Di nuovo Quindi il nostro lavoro Sta pagando E Orlando Sopravvive Al derby Della Florida Con già l'endura Hanno preso Azz Ma Franz Wagner È rotto Ah no 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 Eccolo qua C'è Aia Contro Bancherone Nazionale Denver Ok sì Dall'altra parte Orlando C'era venuta A vincere Una partita In casa Ho invertito Anunobi Su Banchero Lasciando L'attacco Nelle mani Di Markanen Così non doversi Impegnare In difesa Visto che la difesa Non è propriamente Comunque la sua specialità E abbiamo Siamo andati a vincere Entrambe le partite Orlando Io direi di chiudere In 5 A questo punto E siamo tornati Alle 5 Oh ma che è Tonte di Vincenzo Ma no Ma è Markanen Oddio 56 dal campo 51 da 3 Roba che tira Con più percentuale Da 3 Che ai liberi 22 punti di media Sì No Per l'amor del cielo Eh Però Markanen Mi sembrava Stesse facendo Delle serie di playoff Incredibili Va bene Siamo tornati Siamo tornati al punto Dell'anno scorso L'anno scorso Onesto Ci siamo tornati Secondo me Un po' per sbaglio Quest'anno Con i miei upgrade Secondo me Ci meritiamo Di essere qui Ma forse Solo perché Voglio darmi Dei meriti Che magari Non ho Adesso però Dobbiamo vincere E oltretutto Se vi ricordate Non abbiamo 52 vittorie Thunder 47 Quindi si gioca In casa Al Garden Godot Godot Andiamo a vincere La prima Di 14 Prendendo una valangata Di punti Markanen Sta facendo Una run di playoff Che non ha senso Signori Gara 4 3 a 0 New York Knicks Siamo sotto i due Possiamo segnare L'ultimo canestro Per vincere il titolo Se lo va a prendere Colin Sexton A quanto pare Questi New York Knicks Io l'avevo detto Io l'avevo detto Che Colin Sexton Era un uomo di Tibodo 107 pari Adesso però Bisogna marcare Shy Branson Non è propriamente Un gigantesco difensore Ma non tanto per effort Quanto per Esatto Difficoltà fisiche Shy 109 a 107 Abbiamo finito i team out Ma siamo dei rincoglioni Vabbè ma si poteva Prendere un tiro migliore Vabbè Scusatemi Scusatemi Non me la sono sentita Perché se seguite Le stream I video Sapete quanto Il 3 a 0 Davanti Su NBA 2K Quest'anno Sulle K24 Voglia dire niente Ma signori Abbiamo vinto il titolo In 5 partite Jalen Branson Nonostante 18.000 infortuni È un vicazzo P delle finals Andiamo 23 punti 3 invazzi 6 assists 2 recupero Col 52 dal campo 80 liberi 35 da 3 Eh il nostro rebuilding E completo Che bello Che bello Che bello 2 finals Consecutive Tra l'altro Non vorrei dire E quindi vedi che allora Forse la loro grande star Ce l'hanno già Enix Non devono andare per forza Sempre in cerca Dei grandi nomi Che poi tra parentesi Non ci vengono neanche Ultimamente negli ultimi anni Con Markkanen Markkanen Ragazzi Mamma mia 22 punti 8 rimbalzi 1 assist Un recupero E mezza stoppata Di media Col 44 dal campo E il 35 Più o meno Da 3 In 20 partite Di playoff Clamorosa run E niente boys Direi che più di così Non si poteva fare Doppie finals Le prime Non mi sento molto merito Ma le seconde Col titolo Assolutamente si Primo rebuild Importato a casa Grazie per il supporto Grazie per la compagnia Per essere arrivati Fino in fondo Vi ricordo ancora una volta Il link in sito Per le canotte Che c'è l'offertona Per il capodanno cinese 2000 mi piace I commenti Le iscrizioni E ci rivediamo Nelle live Ovviamente per gli altri Rebuilding Ne ho fatto uno Con i Nets Se avete voglia Andarlo a recuperare Anche quello Il link è in descrizione E per tutti i prossimi video E il vostro rebuild Domenica Se fate i bravi Con il mi piace Ciao boys